Se non è un colpo di scena, è comunque una notizia destinata a far discutere. Dopo aver lasciato il Partito Democratico, Paolo Gramigna ha deciso infatti di candidarsi alle prossime elezioni comunali con la lista civica Pavia Ideale a sostegno di Alessandro Cantoni, un fulmine a ciel sereno vista la lunga militanza tra le fila dei democratici. Gramigna è stato assessore e consigliere provinciale nel 2016 e nel 2018 nella coalizione di centrosinistra, oltre che consigliere comunale a Bagnaria. Da oltre 30 anni, medico chirurgo del Policlinico San Matteo, dove ha ricoperto anche la carica di rappresentante sindacale per la dirigenza medica, ha spiegato di aver maturato questa decisione dopo essere uscito dal PD, lasciando tutti i ruoli dirigenziali e dopo un breve ma intenso confronto con Alessandro Cantoni su progetti e prospettive per Pavia, città in cui vive da molti anni. Apprezzo molto che la lista di Pavia Ideale, ha sottolineato Gramigna, ambisca essere un contenitore di esperienze capace di rappresentare tutti i cittadini pavesi al di là della provenienza politica.